Questo è Monte Caprino? Sì, si, mi affagano le tasse quello qua. Della roba era anche questo. Passate, passate. Passate, 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 è troppo stretto lì. Si chiamava Monte Caprino? Allora si chiamava Monte Caprino perché, eh si chiamava Monte Caprino perché quando... Allora si chiama Monte Caprino perché qui dopo che è finito tutto, quando sono arrivati i barbari, che la Roma è finita, poi tutte le varie... Era tutto abbandonato, la gente era andata via, hanno portato il Papa all'Avignone, perciò la peste del 1348, il terremoto del 1348, c'abbiamo il campanile là a Magna Napoli, che è stato tutto così, proprio nel 1348, infatti ancora c'è da dire, è successo un 48, e poi si è ripetuto neanche palla apposta, cent'anni dopo, nel 1848. Quando sono venuti i francesi... Qua ci hanno messo i pastori, ci hanno messo, insomma che era tutto a colle, le capre, e qui c'è pascolato le capre, e quindi doveva andare a Monte Caprino, è rimasto Monte Caprino. Questo qua invece è l'ingresso, vedete? Dobbiamo allontanare, ha detto, ci sta dicendo... Se ce li troviamo... Dai, che ce l'è pure pericoloso... Vedete là? C'è la quercia... Non sembra che c'è l'angelo della rove, però questo qui ancora... Da dove vengono? Eh, perché li vengono da di là... Attaccate dal muro... Oh, vedete qui... Andiamo...